Lì entrano i colpini da ogni parte, lì di tutti che siano con le darte, lì entrano i colpini da ogni parte. Per noi la missione meridionale è stata certamente un buon affare. Per noi la missione meridionale è stata certamente un buon affare. Grazie. Volete la nina nanna o volete ballare? La nina nanna, no? Per noi la missione meridionale è stata certamente un buon affare. Per noi la missione meridionale è stata certamente un buon affare. La missione meridionale è stata certamente un buon affare. A scadale da ponder freshi E che sempre oggi Che sempre ogni cioria si può tovo Che sempre ogni cioria si può tovo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.